Per sua fortuna Bogdanovic ci mette fuori ma subito alla primazione San Marino va in gol il calcio d'angolo da parte di Danilo Rinaldi, il colpo di testa sul primo pallo possiamo rivedere di Mirko Palazzi che va a smarcare sotto misura Manuel Marani che mette in rete San Marino e mette dentro per il 2-1 prova la nazionale sanmarinese a reagire, c'è Rinaldi con il sinistro il pallone che termina alto sopra la traversa, Bucimoncini che viene spostato e Rinaldi mette il pallone sotto l'incrocio dei pali per il 3-2 finale una buona nazionale, un buon test per la squadra al sedicesimo Rinaldi mette i brividi ai sostenitori del Murata con un'insidiosa conclusione fuori di poco pochi minuti più tardi i ragazzi di Berardi si rendono ancora pericolosi in area nasce una mischia ma nessuno riesce a ribadire in rete però Danilo Rinaldi si mangia il clamoroso raddoppio per Rotta trasforma assist e manda l'uno contro uno il proprio compagno che non è freddo davanti a Macaluso immobile il riscatto avviene 60 secondi dopo quando di testa non sbaglia e manda in ghiaccio l'incontro Fiorito è immediata ma Parma non riesce a trafiggere la mantia nel tu per tour avvicinato al nono ancora Parma protagonista guadagna palla caparbiamente e cerca di servire sul secondo paro la corrente Ceci anticipato di un soffio da Della Valle la partita nella fase di ancora per Rotta in grana al turbo sulla fascia destra e serve un pallone comodo per il colpo di testa di Parma che da dentro l'area piccola trova il riflesso di la mantia a deviare in angolo sul tiro dalla bandierina tocco velenoso che fa sibilare il pallone vicino al palo più lontano il faetano rimane rintanato nella propria metà campo ma quando si affaccia dalle parti di montanare è sempre pericoloso al 23 per Rotta che sulla linea difensiva avversaria alta va sul fondo e serve un comodo assist per Parma solissimo sul secondo palo primo gol in questa competizione per lui dirlo a marzo fa molto strano per un giocatore il preludio del gol trappola del fuorigioco completamente sbagliata e Vannucci che lancia Rinaldi a tu per tu con Pazzini tocco sotto morbido che dolcemente si insacca sul episodio dubbio in area di rigore Virtus con Rinaldi che cade dopo l'abbraccio del proprio marcatore al 39esimo tu per tu con Pazzini che è bravo a non cadere nelle finte del numero 9 giallo-blu tenendo in bilico ancora l'incontro è tutto di marca Fiorita al decimo bellazione tutta di prima con Perrotta che mette in merdo per Danilo Rinaldi che di sinistro chiude la trama ma trova un ottimo Muraccini a salvare l'errore di Ricci virtualmente si chiude l'incontro Pellegrino e Rinaldi si sgomitano sul contropiede Fiorita al ventilegno per gli uomini di Berardi con Danilo Rinaldi che da fuori schianta la sua personale doppietta contro il palo di destra di Muraccini morale è alto per gli uomini di Berardi che arrivano al big match contro il Murata con due punti di ventaggio sugli inseguitori per il Cailungo ricerca disperata del ruolo da ricoprire in questo campionato perfezione per la testa di Danilo Rinaldi che incrocia troppo poco per infilare Bertozzi reattivo a deviare con un colpo di Reni poi Ceci calcia clamorosamente fuori a porta aperta al 42esimo è il sinistro giro di Danilo Rinaldi ad uscire alto sopra la traversa con ancora campo libero per portarsi avanti e altre soluzioni più semplici da passi protagonisti Motola sulla smalacciata corta di Bertozzi tenta l'ennesimo pallone Piazza che riesce a creare pericoli dalle parti di Giovagnoli e al 40esimo va vicino al pareggio ancora per rotta il suo diagonale alvoro esce di un niente alla destra di Bertozzi questa volta immobile con i tre punti un mare in tasca la quale Bertozzi tocca malapena e per rotta appena dietro raccoglie e deposita in rete il pareggio facile facile guardando classifiche e risultati un punto che non accontenta nessuno svuotare la lista degli indisponibili è una priorità per entrambe Per rotta va sul fondo ma Bugli in scivolata riesce a togliere il pallone del vantaggio dal facile tapin di Danilo Rinaldi al tre di rigore difesa da Valentini pallone sulla sinistra per Rinaldi che deposita facile facile vantaggio il penna rossa accusa il colpo e nel giro di 60 secondi la fiorita potrebbe raddoppiare la formazione di Sperindio con Danilo Rinaldi che sceglie la soluzione del tiro con poca convinzione graziando Valentini si riferito in cassa all'angolo e lascia il fianco ai fendenti avversari al 33esimo Rinaldi pesca sul secondo paio l'inserimento di Ceci che di piatto al volo non sbaglia per il pareggio dopo il nuovo vantaggio fiorita al nome del solito Tiziano Mottola che lascia partire un destro sul palo vicino che non lascia scampo a Valentini nel finale arriva anche il gol di Fabio Bollini che rende insignificante il recupero decretato da Rossi sinistro morbido nell'angolino che chiude l'incontro il penna rossa chiude il suo 2012 pensando già al mercato del gennaio controllo della situazione di nuovo per il Turino con Migliorini all'indietro da Migliorini per la difesa della fiorita può ripartire in contropiede l'undici san marinese con il tentativo da parte di Danilo Ezechiel Rinaldi riesce poi a chiudere la difesa granata ancora una volta il cross to cross del laterale destro della fiorita mette in mezzo una cross abbastanza debole Sorbera controllo cercato da De Feudis poi Ferronetti rischia qualcosa eccessiva la disinvoltura e ha tutto l'interesse il lancio di Bollini il colpo di testa all'indietro alla fine da parte di Masiello il numero 10 sgrigna il lungo lancio la svirgolata attenzione al tentativo da parte di Danilo Rinaldi non è finita con lo stesso numero 11 che ha dovere dalla fiorita come vediamo con il tocco di Danilo Rinaldi con l'esterno molto bravo Gomis nella fiorita che ora tende a non oltrepassare la metà campo tende a contenere in qualche modo l'onda d'urto possesso palla con la conclusione con il sinistro da parte di Danilo Rinaldi un sgresso dunque sul terreno di gioco per il numero 10 la difesa dei giallo-blu di nuovo Vives molto coinvolto in questa evidentemente molto Blandi Torino che però ha fatto vedere cose interessanti ma è la fiorita che comunque sta reggendo in maniera assolutamente dignitosa Ezechiele Rinaldi corpo a corpo con Barbosa reclamava il calcio di punizione il numero 11 dei San Marinesi l'impressione è che l'arbitro invece abbia e vediamo che c'è un non è assolutamente calcio di punizione